video recensione di sapore di hamburger di savage steve holland 1985 alla quando si pensa alla commedia adolescenziale americana anni 80 vengono in mente svariati titoli una pazza giornata di vacanza dell'86 con matthew broderick breakfast club sant el mosfai di joel schumacher insomma il re indiscusso e ispiratore del black pack comunque resta john huck's morto nel 2009 si dice anche no lo stile john huck's per indicare quel tipo di commedia leggera e realista e sentimentale dell'adolescenza anni 80 il black pack è letteralmente la banda di monelli è stato un gruppo di attori attrici statunitensi e attivi durante gli anni 80 che divennero molto popolari interpretando film con tematiche adolescenziali dell'epoca rob law demy moore e altri e matthew broderick john kusack come vedremo che per estensione brad pack indica anche il particolare genere cinematografico o persino lo stile di vita che veniva rappresentato da questi film insomma vengono fuori tanti nomi ma non salta mai fuori questa godibilissima commedia leggera di cui stiamo facendo la video recensione che ha per titolo italiano un insipido sapore di hamburger la trama esile 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 ma non importa il film è divertente sentiamo lei meyer è un sedicente piantato dalla sua ragazza perché non ha vinto una gara di sci e trova conforto e nuovi stimoli in moni jeunet una francesina che è venuta ad abitare dalla signora smith in una sorta di erasmus e dal suo laido figlio la ragazza lo incoraggia e allena lane finché lui non riuscirà a no queste spoiler vedetevi il film come dicevo il titolo italiano è fuorviante perché si focalizza su un piccolo aspetto della sceneggiatura quando cioè lane va a lavorare per l'hamburgeria di rocco interpretato da chuck mitchell che era in auge all'epoca come interprete di porkis il proprietario dell'omonimo locale nel film di bob clark che abbiamo già recensito andate a ritrovare la video recensione e c'è quella sequenza animata con l'hamburger che suona la chitarra fra l'altro il divertente hamburger video è di jimmy picker mago nell'animazione dei pupazzi in plastilina il titolo originale invece è più macabre better off dead meglio morto però indica in modo più preciso i tentativi di suicidio che l'adolescente col cuore a pezzi tenta di mettere in atto nell'arco del film fra l'altro uno divertentissimo virgolettato con l'inconsapevole aiuto della svanita madre interpretata dalla bravissima ex ballerina kim derby ma in questo film sono tutti bravi john kusak allora appena 19 anni mostra già tutta la sua stoffa david hoggan steers fa il padre che ricordiamo nel 2000 negli anni 2000 per la dead zone che fa il sacerdote fa il padre dal linguaggio forbito che è vittima delle ordine pietanze della moglie e della genialità dell'altro figlio il fratello genialoide di lane che costruisce con dei tutorial cartacei delle armi sempre più raffinate fino al colpo di scena finale veramente deflagrante nel film c'è anche un giovanissimo yuchi okumoto il giapponese che sfida ralph macchio nel secondo karate kid e che ora è tornato alla ribalta nella bellissima serie retro e nostalgica cobra kai anche quella da non perdere su netflix ci sono nel film delle scene d'azione super divertenti e fracassone le riprese in soggettiva i numeri degli sciatori sono uno spettacolo degno del migliore 007 ma la cosa veramente esaltante è l'età del regista savage steve holland all'epoca nemmeno 27 anni ma già in grado di scriversi il film farne la regia e soprattutto trovare i produttori vabbè che siamo nell'america reganiana nella ricca america di rega nei soldi gira una moneta ma non deve essere stato facile per un ancora trentenne imporsi coi finanziatori il giovane regista riesce a distreggiarsi bene fra le scene di realtà e le numerose scene grottesche oniriche molto molto spassose ben congegnate divertenti la madre che cucina oggetti ancora vivi o che prendono vita il ragazzino che poi andando via dal piatto direttamente il ragazzino che porta i giornali che stalker è il protagonista dappertutto anche sulla neve e queste scene oniriche che lardellano tutta la pericola e rendendola particolare particolare e gustosa e scene soprattutto che diversificano lo stile di holland dal dallo stile di dalla linearità sentimentale di john hoax e peccato che l'anno dopo farà questo regista holland farà solo una folle estate one crazy summer con la giovane demi moore già al suo ottavo film ma pre ghost e poi questo regista si perderà per la strada pochi film negli anni 90 e l'ultimo risale ormai al 2009 ma di poco successo la fotografia è di isidore manfoschi che lavorerà poi più avanti nel 1989 con skin deep il piacere tutto mio del maestro black edwards un film che è stato massacrato dalla critica e no black edwards sarà accusato un po come woody allen di fare sempre lo stesso film ma ce ne fossero registi come loro che fanno sempre lo stesso film fra l'altro adesso sappiamo abbiamo ricevuto la notizia che l'ultrattattente woody allen ha chiuso pare aver chiuso con il cinema salvo smentita questo ci spiace assai perché insomma woody allen no fa parte di quella di quei geni che hanno come dire portato lustro al cinema americano anche se poi sono stati più apprezzati in nel contino in europa come anche david lynch la interessante la colonna sonora con canzoni dell'epoca meno note non c'è come dire come in breakfast club don't you forget about me the simple minds per esempio ci sono musiche più un pochino più anonime però sempre interessanti e fondamentali per creare l'atmosfera anni 80 ovviamente erano gli anni 80 non non era ricreata come per esempio in stranger things o in ready player one insomma questo sapore di hamburger questo better off dead è un film giovanile anni 80 da recuperare per 98 minuti di buon divertimento e secondo noi sopravanza e sul classa alla grande tutte le commedie giovaniliste come dire boccacesche che da americampano fu un estano ci fu un estano hanno fu un estato i primi e i secondi anni 2000